Ha portato a condanne per complessivi 70 anni di carcere la vasta indagine antidroga della Polizia di Trieste che ha sgominato una banda di spacciatori arrestando ben 13 persone. Le indagini sono partite nell'agosto del 2021 e hanno messo in luce una consistente attività di spaccio di cocaina gestita da alcuni cittadini di origine nordafricana pluripergiudicati che operavano sulla piazza triestina rifornendo quotidianamente decine di acquirenti. Lo smercio della cocaina avveniva in diverse zone della città, alcune di queste scelte anche per nascondere sottoterra le partite di droga. Il gruppo coinvolto nell'attività illecita aveva creato una delle sue basi all'interno di alcune aree verdi della città. La costante opera investigativa supportata da attività tecniche ha consentito agli operatori della squadra mobile della Questura di raccogliere numerosi elementi di prova, sia grazie all'individuazione di alcuni punti in cui veniva occultata la cocaina, sia attraverso mirati sequestri nei confronti di alcuni acquirenti. Le indagini, che si sono protratte per diversi mesi, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste con il magistrato Maddalena Chergia, hanno portato inoltre a individuare le fonti di approvvigionamento della droga. Due i canali di rifornimento, uno facente capo a un cittadino tunisino domiciliato a Padova e un altro composto da alcuni cittadini albanesi residenti in provincia di Venezia. In tutto sono state arrestate, come si diceva, 13 persone, tra cittadini tunisini, albanesi e italiani, e sequestrati circa 1,7 kg di cocaina.